Omilia della ventiduesima domenica del Tempo Ordinario. Dopo la confessione solenne che San Pietro fece della divinità di Gesù Cristo, sarebbe sembrato logico che quella grande verità fosse stata divulgata in mezzo al popolo. Invece il Redentore comandò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. Il dirlo avrebbe attratto su di essi l'ira degli scrive dei farisei, la quale, cogliendoli ancora impreparati, li avrebbe travolti. D'altra parte, essi in quel momento avrebbero travisato la verità, aspettando, come tutti gli ebrei, il regno trionfante del Messia ed avrebbero potuto provocare un movimento politico nel popolo per far proclamare re temporale il Redentore. Gesù Cristo volle prepararli a concezioni diametralmente opposte a quelle che essi avevano su di lui e cominciò a parlare loro della sua passione, della sua futura resurrezione. Gli apostoli non badarono tanto all'annunzio della resurrezione e si sgomentarono della profezia delle lotte e delle pene. San Pietro, proprio come capo allora allora proclamato, credette di intervenire con autorità e preso in disparte Gesù cominciò a rimproverarlo del discorso fatto e ad annunziargli con una presuntuosa sicurezza che ciò che egli aveva detto non doveva avverarsi su di lui e non si sarebbe avverato. Era lo stesso che volere sconvolgere i piani della providenza, era lo stesso che voler impedire la redenzione. Quelle parole erano una tentazione. Satana indusse Pietro a pronunziare quasi per vendicarsi della confessione solenne che aveva fatta dalla divinità del Redentore e per questo Gesù lo chiamò Satana e lo scacciò lontano da sé. Il suo amore fu immenso nell'annunziare la sua passione perché gli tardava il momento di dare la vita per noi e le parole inconsiderate di San Pietro gli ferirono il cuore acceso di infinita carità. Non c'era da illudersi con aspirazione terrene, non c'era da aspettare un trionfo politico, egli doveva e voleva immolarsi e chi avrebbe voluto seguirlo doveva andargli dietro caricato di croce dopo averle negato se stesso, la propria volontà e le proprie aspirazioni. Non c'era altra via di salvezza e chi avesse voluto salvare la propria vita cioè conservare le sue false gioie e le sue illusioni avrebbe perduta quella vera, la nuova vita che egli veniva a dare alle anime. Egli non veniva a restaurare un regno terreno né valori materiali ma veniva a restaurare il regno dello spirito e i valori soprannaturali. Che cosa infatti avrebbe portato di bene all'anima una restaurazione temporale? Anche se avesse portato alla prosperità che cosa sarebbe stata questa piccola prosperità di fronte ai supremi ed estremi interessi dell'anima? La vita passa e viene il giorno nel quale si deve rendere conto di tutto al giudice eterno. Allora nulla varranno onori, ricchezze e piaceri poiché nulla può darsi in cambio dell'anima. Nel giorno del giudizio Gesù Cristo verrà nella gloria del Padre Suo cioè nel fulgore della Sua divinità e renderà a ciascuno quello che avrà meritato. Il merito non potrà computarsi con la misura che ha il mondo. Tutto quello che fa grandi sulla terra sarà nullità in quel giorno e perciò torna conto di rinnegare se stesso prendere la croce e camminare in compagnia del Re divino verso l'eterna vita. Queste parole avrebbero potuto scoraggiare gli apostoli e forse già si affacciava nel loro cuore una nascosta delusione. Avevano sospirato al regno glorioso del Messia e sentivano parlare di abnegazione, di croce. Avevano sperato una immediata proclamazione del Re trionfatore dei nemici di Israele e sentivano parlare di dover perdere tutto per poter guadagnare un regno invisibile. Il loro cuore stava per naofagrare nel dubbio e perciò Gesù li confortò annunziando vicino il suo regno. E dicendo che alcuni di quelli che erano presenti avrebbero visto la sua venuta prima di morire. Venuta di Dio nelle scritture significa giudizio di Dio e manifestazione della sua potenza. Gesù, avendo parlato della croce e avendo accennato al giudizio suprema manifestazione della sua potenza, predice una prima manifestazione di questo giudizio nel castigo che avrebbe avuto Gerusalemme ingrata. Il castigo che sarebbe stato relativamente a breve scadenza e che alcuni di quelli che lo ascoltavano avrebbero visto. Allora il suo regno si sarebbe dilatato in tutto il mondo e la Chiesa si sarebbe affermata maggiormente. Con questa speranza gli apostoli sentirono che si preparava qualcosa di grande in un prossimo futuro e sentirono il coraggio di seguire ancora Gesù Cristo.